E' evidente che sta buscando una situazione win-win per il partito sinta il beneficio di un manejo nuovo. Si tratta di una cosa che si chiama Beach Policy, una iniziativa per stimolare un prodotto di qualità per i nostri mesi e per i turisti, ma si tratta di un plan di ubicazione per il negozio del deporte acquatico. Non è un protagonista importante per la operazione di beach. Finalizzando il segmento per informare per l'implementazione del plan, noi stiamo attendo con factibilità per mirare e saque funzionale nel prossimo 2 luni. Tamers è un membro del team di manejo di DEP. È percorso per l'implementazione di un gruppo di stuorzio che è un pensamento importante per il beach nel pubblico. L'implementazione di manejo per il beach nel non è libero di differenziare le opinioni, fino a che non passano senza tratta di un che altro. Però è forma di acercamento per attender con l'implementazione di beach policy lo dà un risultato. Inoltre, un uomo di un'implementazione di un'implementazione di un'implementazione di un'implementazione di un beach nel pubblico. Il nostro paese è di noi, il pobo. Rieca, cosa sta così? Quindi questo è Sampar, no? Il pobo di Aruba Sampar ha costato, mi ha detto che non ha rispettato il settore turistico, perché il nostro paese è consciente di quanto è importante il nostro turismo è per noi. E questo è un'immagine per noi è il dranno, il nostro paese è supporto di atta, di inizia. Il nostro paese è un sistema di permesso per permettere di migliori controlli. Al final di conto, lo contribuì a un miglior prodotto. Ci sono stati di un'immagine per il nostro paese per un'immagine, ma non è un'immagine per il nostro paese. Il nostro paese è realizzato il nostro paese di migliorare, per il nostro paese di migliorare, per il nostro paese di migliorare. Il nostro paese di migliorare, come si è finita, ci sono stati ascolti i diversi gruppi di operazioni di Riba Beach, per la altra di mani, e per il nostro paese di attenzione speciale per il deporte acquatico. Il nostro paese di migliorare, ci sono stati insieme a un progetto, ci sono stati insieme a un progetto, ma non sono stati insieme a un concetto, ma non sono stati insieme per il nostro paese di migliorare, però non sono stati insieme a un concetto, ma non sono stati insieme a un progetto. Anche un personale ambicioso, il nostro paese di migliorare, inizio di juni, lo porta a Sinali per la implementazione di mani per l'immagine. Giovanni Moller, Notizia Buonattro.